C'è Vittorio, c'è questo... Non pensiamo che lo Stato deve regalare la cesta. C'è la mafia al sud, Vittorio, c'è una bontaggia folle. Ma la mafia non è solo al sud. Non vale un cazzo, hai avuto fortuna. Hai avuto fortuna tu? Peggio, peggio. Purtroppo la mafia è arrivata anche al nord e stiamo facendo una fatica. La Lombardia è stata venduta l'andrangheta. Abbiamo continuamente indagini che dicono che ci sono gli andranghettisti qua che rompono i coglioni. Questa è la verità. Però un po' di anticorpi qui ce li abbiamo ancora. Giù al sud non puoi difenderti. No, vabbè, no. Non lo può dire però. No, Brambilla... L'ha detto Sangalli. L'ha detto Sangalli. Ma Sangalli vi è Gesù. Non l'ho detto io. Non lo... 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 Ma scusi, condanna milioni di persone. Aspetta Gianlusso. Devo andare in pubblicità. Brambilla, non ricominciare con la storia che al sud non hanno gli anticorpi per combattere la mafia. Non ce li hanno. Non ricominciare perché è pieno di persone, è pieno di simboli, è pieno di cittadini, di giornalisti. Di scrittori che ci hanno rimesso la vita. Devevo lavorare, bravi, bravi, usciti. Anche il giudice. Fermi, fermi tutti, fermi tutti. Giù, giù, giù lo studio, giù lo studio. Dopo torniamo. Non dire così perché ti posso fare l'elenco di donne, uomini, giornalisti ma non solo, che al sud hanno combattuto e combattono ogni giorno la mafia. Quindi non parlare di anticorpi perché ha una stupidaggine. E su questo penso che anche Vittorio mi possa dare ragione perché è così. Bravo, bravo Parenzo, difendi il meridione, difendilo col tuo corpo. Pubblicità, pubblicità.